Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono T e oggi siamo finalmente su Happy Wheels Come si fa a quella parte? Ok, oppostai col carl Vai, muori, muori vecchio Sono morto anch'io Riproviamo Questa volta andrà meglio, vero figliolo? Vero figliolo Sì certo papà, io ho i tuoi ordini Ma stai zitto E fatti uccidere dai coltelli, macete, volanti, giganti, squartanti, boom bambanti Ho una freccia che mi perfora la faccia ma non sono ancora vivo E prima una freccia mi ha perfor... Oddio Mi ha perforato non si sa dove, sono morto come uno sfighi Come uno sfighi Come uno Fighi This part can be hard Sì anche quella là era Dai però, ok ho perso tutte le frecce, ho perso anche l'elmetto Ho perso anche l'elmetto Ok ci ho fatta Good you, almost there Maledetto Ok Ho vinto Ho vinto, non puoi farci niente, ho vinto North Pole Rush Ok dopo esserci rotti le mani Ecco qua Move a little shit Muovetevi piccola merda Oh cavolo, queste mine non funzionano mai Che si veda proprio dalla dimostrazione pratica Che ho appena fatto E abbiamo ucciso i nostri cari amici elfi Fly motherfuckers Andiamo bene No Ma cos'è Babbo Natale non ci porterà i regali sto anno Uff Fortuna che c'è il respawn per Babbo Natale Ok, eh sì Sono volati via Sono volati via Qualche elfo è volato via Fly Oh basta schimacete Ok non abbiamo più Degli schiavi che ci schiavizzano Woohoo Front flip Dai Però comunque sto continuando a dare ordine a qualcuno Ma abbiamo vinto Ho 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 Ok Haunted Mansion 2, 3, 4, 5, 6 Ah Haunted Mansion Sì mi ricordo a sto livello Dai gioco con me Voglio solo un amico Eccomi Non è che avrai molti amici se continui così Posso bypassarti così? Ok Non posso bypassarti Mamma mia Mossa like a pro Mani like a pro Cos'è sta roba? Oh Torni dietro Cos'è sta roba? Un'altra mano like a pro Woohoo Indiana Jones è morto Gli alberi ci tentano di ammazzare Zucche maledette E abbiamo creato una zuppa perfetta No la gamba Ah ok dovevo andare qua giù Perfetto Gamba di merda Mi fai prendere infarti per niente La gamba di merda La gamba di merda non ci farà più compagnia in questa avventura Oddio Io scelgo di andare per di qua Se non vi dispiace Ti dispiace? Sì un po' Togli Tentacolo rosa Che non serve a niente Grazie Te l'ho uccisa prima io Ringraziami Eh sì Muoiono un casino di persone Eh c'è anche un tipo in un barile Perfetto Ok Le scale I nemici più pericolosi di questo livello Woohoo Strabello Happy Wheels Future Welcome to Happy Wheels Sword Row Jet Fall E' non lo scuola che commento finale E' non lo scuola che con mezzo finale Spike Drew Oh no 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 sono cascato dentro Nooo Obstake Cars Eric Jump Madfuck Woohoo E' non lo scuola Che bello mamma mia Bellissimo Bellissimo Ed ora Happy Wheels Going to Seven Years Old Non l'ho capita Ok Ma io comunque vinco Siii Speed Bridge Speriamo che sia speed Questo Bridge Speed se vado qua non succede niente e allora andremo qui sei pronto figliolo certo ok non sei più pronto certo hai detto che non sei più certo lascia perdere certo che se adesso torno lati strappo gli occhi a morsi e vedi che dici certo ah boh ok speed speed super bridge speedoso che mi spida in un bridge dai wow e adesso questo bridge era molto speed ma anche un po rid ok tempo il run rid, vabbè chi si faccia oddio no dai ok eccolo qua oddio oh ci porta fino alla fine ok grande ci dà un passaggio fino alla vittoria questo tizio oh 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 cosa ti è successo è come se avessi qualcuno che ti stesse perforando lo stomaco e che ti avesse aperto l'intestino a metà allo stesso tempo buon comunque adesso questo è un trucco per fare questo livello in 4 millisecondi e spero che non muorirò neanche questa volta ok il passaggio più difficile è il passaggio ok ok l'ho fatto come niente questo era il passaggio più perchè ti ribalti ri ribaltati no eh boh la facciamo alla vecchia wow grande non sei grande cos'è sta roba dai wow dai grande grande ok sta arrivando lo scimmione strambo e difatti ci ha preso e adesso abbiamo perso no è ancora è ancora in piena grande ciò no grande grande motorino che si fa togliere come niente vai no ancora un po' dai 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 no oddio no si è rotto il braccio sinistro vai braccio destro tutto dipende da te quanto tempo c'è sto diciamo quanto tempo c'è sto se perché non ho vinto scusa sono ancora vivo eh quanto a fondo devo andare in sta faccenda no no finalmente c'era un po' il suono ritardato però bo facciamo ancora string con questo dai il vecchietto ok woohoo no ma dai quindi si crea un ponte bon perfetto io ce la faccio anche senza ponte a chi servono i po' cos'è? chi è? grazie amico no 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 eh eh mi spiace ahia come divermetti string 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 bring sono passato così veloce che non mi ha calcolato praticamente se le mie braccia si tirassero via dalle palle ahah nooo o grande 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 grazie e se invece io rispondo se non si può ok se non mi rompe non mi rompe grande sono sopravvissuto non so come ok esplosione totale sul mondo oddio e ehi tu si proprio tu che hai appena finito di vedere questo video se il video ti è piaciuto lascia un commento mi piace se invece non sei ancora sicuro della scelta e vuoi vedere ancora altri video ti consiglio questo video o questo video molto bene questo dipende solo da te però se tu stai vedendo il video fino a questo punto vuol dire che sei un pro e quindi per dimostrarlo iscriviti al mio canale cliccando semplicemente su questo tasto qua sopra molto bene dipende solo da te ti ringrazio per la visione e noi ci vediamo in uno di questi due video ci vediamo un video Grazie per la visione!